Quindi, volevo sapere, ci sarà un video di questo album? Eh, vorremmo sponsorizzare l'album con un video, se non ci riusciamo. Eh, allora ci riusciamo sicuramente, perché noi stiamo qua per questo. Noi ci riusciamo a parlare, insomma. Allora... Questo non c'è problema. Ok, perfetto. Allora, perché non ci hai perso sui quattro cinque minuti? Bravo! Facciamo sette video, allora. Oh no, già si è riadorito tutta una mano, pur che l'audio, senti! C'è il progetto di Giuseppe, che è bello, perché stiamo parlando di una cosa importantissima, Sì, sì, noi stiamo parlando di un'associazione. Sì, sì, noi stiamo parlando di un'associazione. No, Luca, sei d'accordo? Dove è quello che diceva lui? Sì, il fatto del venire è bello. Sì, sì. Ti ho detto, questa associazione acca a vari enti, tra cui anche la mia ragazza, che è una delle principali esponenti. Proprio per salvare la musica. Per salvare la musica, l'uomo alla Coppa Network non la regaliamo più, facciamola pagare, se è buona. Cioè, faticamolo poco, ciò sai, però facciamoci un prodotto buono. E dobbiamo noi pubblicizzarlo, auto-pubblicizzarlo, auto-distribuirlo. Questo è perché il meglio di noi può fare i nostri interessi. Posso fare un pochino di pausa? No, perché il problema è che stiamo a Radio Azzurra, Napoli, Tocco. Qualcuno, in effetti, si pensa, sembra che è stata cambiata un po' con la frequenza, quindi sempre 88 a 400. 88 a 400. Ma gli sponsor devi ricordare tu. Lo speaker proprio per ricordare gli sponsor. Perché il numero uno, come tutti quanti, sono un numero uno che stanno qua. Come già dal primo, vai. Dal primo, il nostro vecchio sponsor, la pasticciera la migliore ad Arzano, Casavatore Casore, diciamo, il padre mio. Poi abbiamo Speedy Grill Kebab a Casore Bielodui Pariosto, Stocking House Mobilificio alla Rotonda d'Arzano, sul Doppio Senso, di fronte a Mita Sport. E poi abbiamo Rete Europa, Agenzia di Viaggi, Alcistinola, Isola 3. E poi diciamo che questi qua, magari fra poi si faranno parte di un progetto nostro del 14 luglio che stiamo organizzando. Abbiamo solo la data. Ma se c'è stato io non bello. Ma nemmeno io. Ma proprio un pezzo del nostro carissimo amico Peppe qui. Vai Marco. E guarda, cosa dire sinceramente? E' un football, la tavola si dice. Perché mi aveva un po' di 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 un po'. Ma non la dire a Luca, non la dire a Lauricane, non la dire a doppia a me ma... No, ma fa solo peggio insieme. Oggi abbiamo tante qualità e l'ha mancanata qua. Io sinceramente vorrei invitare anche a Mariangelo a parlare a dire qualche cosa che la nostra manager... Eh 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 scusate. Ma ci ha fatto i segni, ci ha fatto capire tutto. A forza. Tommaso guarda, se c'è cosa a dire. Sono stato prima a decine di anno più. No, adesso lo so, lo so, vabbè. L'hai già dato 5 metri, puoi stare a me. Ok, per questi anni che stiamo facendo... Mi piace per questi anni. Andegrand muro. Sì, sì. Ragazzi, io penso veramente che abbiamo fatto e faremo una bella squadra con voi. Sempre grazie a voi, per quello che in effetti è il nostro progetto. Perché vedi, il fatto che dei doppi AB, che ha un genere di rap... Ma quello è bello, avere tante cose. Lui fa l'undergrande, lui fa un po' più musicale... E per scioglio nel soggettivo. Sì, esatto. Perché io vedi, per esempio, un personaggio di doppi AB che si presenta in un modo. Lui che si presenta in un altro. Lui che si presenta in un altro. E lui, con questo fatto, ha detto che con questo occhio... Una siciliana! Sì, io! La voce no, gli occhi! No, no! Gli occhi parlo! 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 No, perché io vedo, quando abbiamo doppi AB con questo bel cotino, tutto bello... Ma chi sta passando a bocca? No, no, no! La prima cosa! Siamo avventi anche su questo, non preoccupare! No, no, no! Ci siamo ammocotti! Gli ho fatto questo, se poi 100%! No, che li ha capito! Non ho parlato! Non ti fa paura! No, va bene! Perché sono... Non ho trovato la niente su! Gli occhi parlo! 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 Ma non c'è l'unico? Una battaglia! No, no! Non c'è l'unico! Ma magari intavoliamo un discorso, di cosa vogliamo parlare? Ne parliamo e facciamo il rap con qualche cosa di lui! Ma non c'è l'unico! Ognuno che si sente che lo dici, non fa stasi cosa! Questo che... Tema libera! Tema libera! Tema libera! E passi c'è il cuffe, no? E se lo vanno! Yes, yes! Un attimo! E non vieni dentro! E non vieni dentro! Mi vieni dentro! Poi? E stai passando a lui! Non c'è questo! Ha, e piglio il tempo! Ha, ha! C'è capivo! Come piglio il tempo, come va il tempo Nel fratempo soffre fantasi Si mi parto! A parte che son il rap, a parte un rap, parte il terzo Enzo, non scherzo Voto il rap ca palla Sジャ un animale, animato e stia fatale C'è una buffet balla, mi posso andare qua, ho frate, non ti balla, anzi, ti porto rap, nata, rindo bicariella, io nato, mangiato, renato, ritorano a te, quale problema è proprio chi sta, che sistema si stimata, si mi stimata, mi è marcatrista, ma, se mi conosci d'origine, non ti ammuccio, anzi, fai un po' sensazione, ma non per te ci appagiamo, ma sto mandando, quale è il problema, mi risconto che sta condanna, abbassa la seda, poi arriva amatina, spere, butto rap, con tanta adrenalina, pura culina, ma faccia, ma ruga, imbaccia, straccia, quale è il problema, è ciuracata, nascia, sicura, ma troba, pura imbaccia, umura, tata, capala, t'ataca, t'atira da terra, silura, non mi ferma fatto, fatta, che ti disama, ti chama, ti faccia, con gente che sta fatta, la gente sta rote per rap, ma te passi, stu mica mica, mica, e cosa fac? Ah, frate, ora è parte, dopo un beat, ah, è più tempo, che aveva tutta gente fuori a tempo, come alcuni che ho fatto, rock and retty night, on, off, i studi che sto beat, studi che sti finti rapper che fanno, rap all'off, non sparerime l'off, ah, i sparerime i ferro come fosse Lara Croft, zero roba all'off, forse ne capite, zero roba soft, questa roba, cassa in posta, doppia bitta, tutta roba tosta, forse ne capite, io sto tosto con ma capi sotto, ah, tu cassa, non mi tiro mai, vanno sempre non so, frate, come fosse, come fosse Marrakesh, zero cash, io sono doppia bitta, frate, questa roba cata flash, yeah, ah, ah, sì, ah, ok, frate, io sono con Luca Wind, faccio rima, vola, vola, e fra i venga, raffra, ora, rappresento un rione, salicella, metto il mappolo, ho fatto tutto un barambo, e come se fa, oh, io sto cassa in questa bella trasmissione, doppia bitta, in zermaglione, è capito la soluzione, e sto insieme, ora è parte, Marco Ticcione, hai capito come scoppe l'esplosione, ho fatto l'esplosione, e sto, va bene, bravo, 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 ottimo, bellissimo,